Vinci i mondiali, visita universi paralleli, combatti per salvare la tua razza, corri veloce come Sonic, salva la principessa Peach, impugna il controller e accendi M2O, ogni domenica dalle tre del poveriggio, Tarquini e Prevale ti portano nel mondo dei videogiochi, a colpi di Joypad, Gamepad, la console virtuale di M2O. Grazie a tutti.